Sì signore, però a me mi dispiace contraddire al dottor Salluzzi Berlusconi non è che andava incontro i mafiosi, andava incontro i collaboratori perché Berlusconi proprio, diciamo, ha stravolto la legge che fece Falcone e Borsellino sui collaboratori e tanto che l'hanno cambiato perché il dottore Falcone e Borsellino cercavano di fare nacchere i collaboratori e farli diventare come mutolo. Il dottor Berlusconi ha cambiato le legge e ai nomi che avevano cambiato ha portato tutti i precedenti cioè io mi chiamavo Fiore, va bene? A un certo punto, grazie al dottor Berlusconi, va bene, che io magari come uomo l'ammiro perché mi portò tutti i precedenti che aveva mutolo.